Ogni anno a Rosh Hashanah, la mattina di Rosh Hashanah, quando suoniamo il Shofar, viene giù in questo mondo una luce, una luce di Dio che rimane per l'anno intero. Questa luce è l'energia positiva del mondo, è la vitalità del mondo. Cosa succede? Ogni anno, dopo il suono del Shofar, viene questa luce nuova. L'anno dopo, questa luce, la vigilia di Rosh Hashanah, va via per dare spazio alla nuova luce che l'indomani deve tornare con il nuovo Shofar. Perciò cosa vuol dire? Che ogni anno a Rosh Hashanah c'è come una sorta di cambio di luce. Va via la luce vecchia, chiamiamola così, dell'anno che è appena finito e viene una luce nuova. Ma cos'è la storia? Che questa luce nuova che arriva è una luce assai superiore della luce vecchia. È una luce nuova che porta a un anno nuovo, a un anno migliore, a bendizioni nuove. Devo dire che anche se la mattina di Rosh Hashanah, della vigilia, qualcosa sta andando male, l'indomani può essere che questa cosa non esiste più. Perché? Perché c'è una luce nuova. Non pensiate che se una persona sta soffrendo, ha una malattia o delle difficoltà, quello che sia, per forza in eterno sarà così. Hashem prende, Hashem dà, Hashem manda, Hashem riprende indietro. Hashem può fare tutto quello che vuole. Se noi ci speriamo, se ci crediamo veramente in questo cambio della luce, che la luce dell'anno nuovo può migliorare a 360 gradi l'anno passato, allora dice, allora c'è speranza che ci sia un cambiamento. Però il punto che cos'è? Che Dio fa il suo. Dio manda la luce nuova, manda via la vecchia e porta una luce nuova migliore. La domanda è, noi dove siamo? Noi siamo recettivi a questa luce? Noi accettiamo, vogliamo questa luce, la prendiamo, la usufruiamo? È come un'onda che se tu vai, cavalchi l'onda o ci vai contro. Cavalcare l'onda vuol dire seguire l'onda e farti portare in alto. Il punto è, se Dio manda ogni anno una luce nuova che è sempre superiore all'anno precedente, però se tu non segui quella luce, rimani ancora con la luce vecchia, come fai ad andare? È un dislivello. Il mondo va avanti e tu sei ancora indietro, perciò non stai andando pari passo col mondo. Carpe Diem, Rosh Hashanah è il Carpe Diem, il giorno che Dio dà nuove energie al mondo. E quando dico mondo, noi siamo inclusi nel mondo? Allora come possiamo pensare di rimanere nel nostro comfort zone dell'anno precedente, quando il mondo sta correndo in avanti? Allora anche noi dobbiamo rincorrere il mondo e seguire questa nuova luce, attingere la luce per poter essere persone rinnovate. Rejuvenation, giù, giù vuol dire ebreo, rinnovarsi. Però devi essere pari passo. Il punto è questo. Ogni anno a Rosh Hashanah, quando noi capiamo questi concetti, dobbiamo dire Dio aiutami, io voglio cambiare, e ti prometto che quest'anno un piccolo cambiamento in bene lo faccio. Però aiutami, fammi godere di questa luce e sicuramente Hashem ci aiuterà e ci trascinerà nella sua luce. Una persona che non fa un percorso del genere non può mai capire quanto lui è forte. Come fai a scoprire cose di te che tu non conosci? Tramite Teshuva. E la storia è la seguente. Un aneddoto. C'era questo re che vuole un suo ritratto. Un suo ritratto. E sente che in città c'è questo... Come si chiama? Pittore, non so come si chiama. che fa dei bellissimi ritratti. Va da lui e dice guarda, io sono il re, non vado a spese, voglio che fai un ritratto di me. Pittore, grazie. Vuole che fai un ritratto di me. Però ci devono essere due condizioni a questo ritratto. Condizione numero uno, devi essere un ritratto realista. Non puoi cambiare i miei connotati, non puoi cambiare... Niente, deve essere esattamente combaciare a me. Patto numero due, io devo avere, devo apparire, bello. Perciò devo apparire bello nel quadro e deve essere realistico. Il problema che cos'era? Che il re, nella sua faccia, aveva una cicatrice grandissima che lo rendeva brutto agli occhi. Il pittore non sa dove girarsi. Se non farà quella cicatrice e lo farà bello, lui si arrabbierà perché non è realista. Se invece fa la cicatrice, sarà brutto. non sapeva dove girarsi. Pensa, 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 gli viene un colpo di genio. Lui fa il ritratto del re, però mette le due mani del re sul suo viso, o una mano addirittura sul suo viso, in segno di pensiero. Quando la persona pensa, fa così. Perciò fa vedere lui con gli occhi strizzati che sta pensando, che è concentrato e mette la mano. Perciò la mano copre la cicatrice. Perciò lui appare bello, la cicatrice non si vede, morale della favola, è contento. cosa ci insegna questa storia? Che il re, quando vede questo quadro, rimane sbalordito, rimane contentissimo di che cosa? Di come il pittore vedeva il re. Dice, ah, lui mi vede come una persona profonda, una persona che pensa, che mi concentro. vuol dire il pittore è riuscito a donare al re un'immagine che neanche il re conosceva di se stesso. Ovviamente è una storia, è una metafora, quello che vuoi, ma questa è l'idea della teshuvah. Quando tu fai teshuvah e vuoi tornare veramente a Dio, trovi in te delle situazioni, delle forze, delle emozioni che tu stesso non conoscevi di avere. E la teshuvah, questo percorso di ritorno, ti fa vedere quando vai in introspezione, vedi che in realtà hai tanta forza, hai tanta capabilità, semplicemente eri ignaro, non sapevi di avere. Quando noi suoniamo lo shofar, abbiamo dei toni, delle noti musicali, chiamiamole così, dei modi di suonare. Abbiamo tre modi, abbiamo la prima è la voce una voce integra, poi abbiamo la seconda nota musicale è tre. Poi abbiamo lo spezzettato abbiamo tre suoni. Adesso, nella sequenza, perché non è che suoniamo a caso, c'è tutta la sequenza che noi seguiamo, noterete, se fate attenzione, giovedì, che la sequenza è la seguente. prima suoniamo il suono lungo, poi i tre, poi i nove spezzettati e poi finiamo di nuovo con il suono lungo. Perciò, ogni sequenza inizia e finisce con il suono integro, quello lungo, in mezzo c'è i tre e i spezzettati. Ok? Cosa rappresenta questi suoni e perché li facciamo in questo ordine? Intero, spezzato, spezzettato e poi intero? Quando noi nasciamo, come dicevo prima, siamo anime candide, pure, perciò siamo integri, una linea che non è spezzata. Siamo bambini, neonati. poi quando il bambino comincia a crescere, comincia un po' a diventare grande, di colpo non è più integro, di colpo diventa spezzettato in tre, ogni tanto fa dei piccoli sbagli, dei piccoli peccati. Man mano che cresce, i peccati da tre diventano di più, spezzettati, tu, 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 tanti peccati. Però abbiamo detto che ogni sequenza finisce con la linea retta che era la perfezione, no? Vuol dire che nasciamo perfetti, nella strada ogni volta, ogni tanto ci perdiamo, ma poi alla fine ritorniamo ad essere perfetti. Vuol dire che anche se tu nella strada della tua vita ti sei perso e hai fatto qualche sbaglio, tu, 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 non rimani così, perché la sequenza finisce sempre con il suono integro. Vuol dire che anche chi sbaglia può finire la sua vita, diciamo, in un modo retto, in un modo dritto, in un modo completo per Hashem. E questo ci ricorda cos'è il shofar. Il shofar è il pianto della nostra anima. Questi suoni, tu, 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 è come una persona che piange, si inghiozza. Sono tre livelli del pianto. Perciò a Rosh Hashanah, che siamo davanti a Dio, ognuno di noi, la propria anima piange davanti a Dio di essere perdonato, di essere ricollegato. E la parabola che si usa a raccontare del Hasidim, prima del suono del shofar, è la seguente. L'ho raccontata tante volte in passato e speriamo per tanti anni ancora di poterla raccontare. La parabola è la seguente. C'era questo re di questo paese, che ha un unico figlio, il principe, l'erede al trono, il futuro re. Un giorno lo chiamo e ci senti, guarda, qui quello che avevi da imparare te l'ho dato, più di tanto qui non ho cosa farti imparare. Ti ho trovato un'università in America, per modo di dire. Lì andrai, potrai studiare cose nuove, materie nuove. E poi potrai tornare e potrai essere il futuro re, però avrai una marcia in più. E il re dà al figlio di tutto, soldi, vestiti, tutto quello che ha bisogno lo dà. Il principe era giovane, arriva in America e scopre questo nuovo mondo, musica, giochi, attrazioni, a non finire. E lui si dimentica della sua missione, anziché studiare, migliorare per tornare a casa. Dimentica tutto quello che ha imparato, va in posti sbagliate, con persone sbagliate, azioni sbagliate. A un certo punto si ritrova che ha sperperato tutti i soldi, non è andato in università neanche una volta, tutti i suoi vestiti sono stracciati, sporchi, rovinati. Lui si guarda allo specchio e dice, ma cosa ha combinato? E' obbligato a tornare a casa perché non c'è più un soldo, non c'è più niente. Torna a casa, a Palazzo Reale, fa per entrare, ma le guardie lo fermano. Chi sei? Ma come chi sono? Sono io, il figlio del re. Ma le guardie non lo conoscevano, non capivano neanche la sua lingua. Tanto era cambiato che non lo conoscevano. Allora il ragazzo alza la voce verso la stanza del papà. Papà, papà, sono io, sono io, sono tornato, perdonami. Il papà si affaccia a finestra, vede qualcuno che non riconosce neanche lui, ma la voce, somehow, in qualche modo la riconosce. Corre giù per le scale, apre la porta, vede suo figlio, lo abbraccia, lo bacia forte. E il ragazzo piangendo, il principe piangendo, dice Papà, so che ho sbagliato, so che ho tradito le tue aspettative, me ne accorgo, ma ti chiedo scusa. Mi sono fatto prendere dal mondo, però adesso sono qua, sono tornato, ti chiedo scusa, dammi un'altra chance, ti prometto che stavolta andrò, imparerò e tornerò e saprò aggiustare il tuo regno. Questa parabola, che la trovo molto emozionante, la presenta ognuno di noi. Quando noi siamo anima, prima di nascere, siamo anima, siamo divini. E Dio dice a quest'anima, anima, qui non c'è più niente da imparare. Devi andare giù nel mondo, perché il mondo, nel cielo, non ci sono le mitzvot. In cielo non c'è tefilim, non c'è candele di shabbat, non c'è shufar. Ma in cielo c'è soltanto spirito. Se tu vuoi fare le mitzvot, devi scendere giù in questo mondo. Allora dice Dio, figlio mio, qui per te non c'è più posto, non c'è più niente. Devi per forza andare nel corpo, giù nel mondo, lì potrai migliorare la tua anima, perché lì potrai fare le mitzvot, lì potrai studiare la Torah, lì potrai aiutare il prossimo. E l'anima entra nel nostro corpo, con l'impegno di fare del meglio, fare la volontà di Dio. Però, come ci guardiamo in giro, il mondo a volte ci fa dimenticare la nostra vera missione, ci fa dimenticare le priorità della vita. E cosa facciamo? Come quel principe, ci dimentichiamo, non siamo curanti, arriva alla fine dell'anno, a Rosh Hashanah, diciamo, ma cosa ho fatto quest'anno? Dio mi ha mandato giù con una missione ben precisa di portare luce, e io non ho usufruito delle ricchezze che Dio mi ha dato, delle potenzialità che Dio mi ha inserito in me. Arriva Rosh Hashanah, e ogni persona va davanti a Dio e sente il suono, lo shofar, che è il pianto della sua anima, che noi piangiamo davanti a Dio, diciamo, Padre nei cieli, mi hai dato di tutto, ma io ho sbagliato. Però ti chiedo scusa, proprio come il principe, e allora noi chiediamo a Rosh Hashanah, anche se abbiamo sbagliato, dacci la possibilità, quest'anno faremo di meglio. E Dio cosa fa? Come il re, abbraccia il suo figlio, lo bacia, e ti dice, non ti preoccupare, io sono giudice, io sono tuo papà, ti do un'altra chance. E questa chance che noi riceviamo quest'anno ci deve dare la forza, il coraggio di dire, quest'anno io mi impegnerò di essere una persona come, nel vero senso della parola, come Dio comanda. Siamo qua per Lui, siamo qua per servire Dio. Fino a quanto dobbiamo servire noi stessi? Servire le nostre passioni, i nostri desideri, quando sono sbagliati. Ricordiamoci che siamo qua per Lui. Lui ci ha messo al mondo. E a Lui dobbiamo tutto. Posta Hashem, accendere i nostri cuori, aprire le nostre menti, di capire quanto è importante vivere, e quanto è importante vivere, secondo il dettame di Hashem, che tutti noi possiamo ricevere una valanga di benedizioni, materiali, spirituali, di salute, di amore, di sostentamento, tutto, fino ad ricevere la brachà, la benedizione più alta che abbiamo bisogno, che è la redenzione finale. Tramite Mashiach, Amen, Kenya, Irazon, Shana, Tova, a tutti, ogni, ogni bene. Mettiamo la sigla, ogni, ogni bene. Ci vediamo, l'anno prossimo. A presto. A presto. A presto.